Passeggiando per Battipaglia mi sono imbattuta in questo, guardate, hai mai combattuto per i tuoi diritti? Frase che mi ha molto colpita, perché voi come ben sapete io sto combattendo per il diritto di essere madre, la madre di mio figlio. Non è giusto che una donna, una volta che denuncia il compagno violento, il 90% delle donne gli viene tolto il figlio. Non è giusto che una volta, non solo abbiamo subito violenza dai nostri compagni, ma una volta entrati nei tribunali veniamo ulteriormente accusate. E questa è la mia storia, eccola qua. Scusa un attimo. Per far capire a tutti che io non mi fermo nella mia lotta, per far capire agli amici, ai nemici, che io sto ancora qua, anche se tentano di zittirmi con intimidazioni, minacce, querele, diffide, ma io sto ancora qua che parlo. Eccola qua, ben in vista la mia storia. E ricordate sempre che io ci metto la faccia, ma soprattutto il cuore per mio figlio.